Quel pasticciaccio brutto della conferenza dei servizi. Potrebbe essere questo il titolo dell'ennesimo capitolo sulla vicenda dello Stadio della Roma. Molti pensavano che la riunione fosse una mera formalità. Sembrava scontato l'ok alla proroga di 30 giorni chiesta dalla società Eurnova, proprietaria dell'ippodromo di Tordivalle. E invece, che le cose non sarebbero andate come sperato, lo si è capito dopo le prime ore di attesa, quando è arrivata la notizia della bocciatura del via, ovvero la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera da parte della Regione Lazio. Poi il tempo è passato senza che trapelasse nulla, oltre 5 ore di riunione, fino a quando non è emerso un no secco. Del nuovo progetto di costruzione di uno stadio con le cubature ridotte non si è neanche parlato. Infatti il patto con la S Roma, tanto celebrato sui media, non è stato seguito da alcuna delibera in comune. Per cui per la conferenza il nuovo accordo semplicemente non esiste. Sono terminati i lavori della conferenza, la Regione ha differito il termine della propria determinazione che ha spostato entro i termini della procedura che la legge prevede di 180 giorni. La richiesta che noi abbiamo fatto a tutte le amministrazioni e anche al proponente è di far pervenire alla Regione, alla conferenza dei servizi, entro il 30 marzo, tutti questi materiali. Poco meno di un mese. Il 30 marzo è il limite massimo entro il quale il Comune dovrà presentare tutti gli atti in regola. Pochissimo tempo, se si pensa che per produrre tutta la documentazione inviata finora ci sono voluti oltre sette mesi. Una lotta contro il tempo, insomma, per salvare il sogno di uno stadio mai così tanto osteggiato e difeso allo stesso tempo.